buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo a riete amori lontani potrebbero improvvisamente riemergere c'è qualcuno che non ha mai smesso di amarvi e potreste rincontrarlo proprio oggi toro oggi il passato vi condizionerà ancora molto non sarà forse il caso di metterlo dietro le spalle gemelli se non siete sicuri di qualcosa prima di decidere chiedete consigli e pareri a persone esperte e di cui vi fidate abbastanza per accettare un loro consiglio cancro si particolarmente prudente oggi in qualsiasi cosa farai leone giornata per certi aspetti positiva buone notizie in arrivo anche se la soluzione del problema che vi affligge non è molto vicina vergine non lasciarti disorientare da imprevisti in casa e non trascurare il riposo bilancia dovete fare ancora dei passi avanti in alcune situazioni che vi stanno a cuore vivete ancora l'incertezza e dovete fare in modo di uscirne presto scorpione non abbiate nessuna chiusura verso chi cerca di farsi nuovamente vivo potrebbe avere delle cose interessanti da raccontarvi sagittario oggi potrebbe esserci una ventata di novità in amore capricorno un contrattempo potrebbe distrarvi da una questione più seria che va affrontata all'istante dategli la priorità acquario momento culmine per una decisione importante che dovrete prendere ora è il momento di agire esci nuove conoscenze sarete animati da molta passionalità questo è tutto al prossimo appuntamento con l'oroscopo